Musica 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 Basta chiedermelo Basta Allora Harry ha la stessa collana no? Perché appena l'ho vista ha detto La prendo e la prendo Sì ma andiamo per finire Sì andiamo Oh Musica 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 Ti guarda che c'è un po' che è venuta sotto a quest'altezza? Eh appunto! Ma dove c'è venuta? Sieni in mano! Ma che quando scendi? Eh! Ah, castellato! L'uomo è quello che non ha chiuse, vede? L'uomo è quello che non ha chiuse, vede, vede! Ah, c'è venuta! Ah! Ah, c'è venuta! Ah, c'è venuta! Ah! 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 E' un'aria che vale indietro. Dai Luca, spingi! Alla seconda, terza, quarta, quinta e sette. Va bene? Tutti di fila. Rega ma è chiuso! Tanti auguri! E' passato il mio compleanno. Delle pizzette che si sono gonfiate come dei palloncini aerostatici. Siamo per fare i video. No! Eh, guardi! Me lo dici? Il resto sarebbe il resto. Il resto sarà il resto. Eeeh! 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 Ma qual'è c'è per mangiare? Si è rotto! Si è rotto? Ah, si è rotto! Vabbè, ma lo puoi mettere... Lo metti vicino! Ma non rimane accesa? Questo vento... Ma vedi! Stai facendo film! Stai facendo film! Vai, vai! Sì, sì! Come te dico, per uno? Così, fai no? No! Ma vedi! Ma vedi! Ma vedi! Ma vedi! Ma vedi! Ma vedi! ают! Mi commento udige! Ma vedi! Ciao! Eeeh! Ma vedi! Eeeh! Ma vedi! Eeeh! TBaruluri! Eeeeh! Uma! T построit. Arau è la mia meriglia C'è la mia amica Ci ha aperto Ce l'avevi già? Dimmi che non la bevi già te Hai visto? Wow Ce l'avevi già vero? No, non ce l'avevi Ehi, cerchi una roba Domani vediamo La mia buona C'è un'altra roba C'è un'altra roba Dio mio, cottura gali belli Guarda, sono uguali i miei Adesso li abbiamo uguali Adesso li ho però Sono i miei decimi I ciocchi Non sei ciocchi No Non sì Corso Gli hai paura Guarda Guarda Ma Guarda 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 Sì, perché porta sta volando tutto lì. Sara, tu sei mangiato lì? Uh, ancora. Andrea, dai. E mangiare, dai. Sì, 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 sì.